Prestigliandolo in studio Prestigliandolo in studio Sto gusta gusta Prestigliandolo in studio Stiamo visitando la comparsa de... Ransomela Si, chi è il superiore? Ransomela con pota e tutto qui con noi non più e meno che il vestuario della comparsa Braulio, contanos come ha stato la tua esperienza insamblando il vestuario di questo progetto? realmente questo progetto mi ha dato molto dolore di cabeça è un vestuario che lamentablemente che ha dovuto andare a la luna io tengo la tua traductora il giorno di oggi buona il sabor io tengo la tua traductora explica si tu sei si tu sei si tu sei si tu sei si si tu sei che la comparsa viene picante la tua traductora la tua traductora la tua traductora è un fan è un fan come se chiama la comparsa 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 una fiesta una fiesta una fiesta tanto che marea e nonca che llega come se chiama la comparsa 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 evidente che ma condizano candida in questo nuovo progetto? Molto, perché durante la pandemia stiamo unendo questo progetto e sempre ci siamo sentiti come famiglia e mi piace molto la quimica Non si perdono questo choque questa ragazza che sta qui lo farà tutto e più il 18 di febrero nel Gran Teatro del Cibao che ti ha inspirato per montare questa coreografia tan exquisita? No posso dire la sorpresa Sì La Saraosa è molto La maggiore La maggiore La maggiore La maggiore Io sono la direzione La maggiore Qui siamo con Ray Una piaccia importata Viene da Santo Domingo A su ricordi da Santiago La Vega, Arabacoa Pierna, Cambriè, tutto Una importata Ray, se tu avessi che scegliere una ora qui? La maggiore La maggiore La maggiore SIGUAPEANDO SIGUAPEANDO Po Youtube SIGUAPEANDO SIGUAPEANDO SIGUAPEANDO